Allenamento pancia al top, pochi minuti per allenare al top i nostri addominali. Andiamo! Ragazzi, pronti a partire con questo workout, meno di 10 minuti per allenare al top i nostri addominali. Il nome di questo workout è pancia al top. Il materiale che ci servirà è solo il tappetino. Siamo pronti a partire per tonificare in pochi minuti, meno di 10 minuti, la nostra parete addominale. Scaldiamoci intanto con dei knee-up, porto sul ginocchio. Con questo esercizio molto semplice vado ad attivare la parete addominale, quindi a scaldare i nostri addominali. E poi scenderemo sul tappetino. Come sempre, tre esercizi. Ogni esercizio è lavoro 40 secondi, pausa 20, ripetuto per due giri. E al termine c'è l'esercizio Special One. Vi dirò solo al termine, l'esercizio più performante lo facciamo al termine. Vai ancora, scalda! Poi ragazzi, lo sapete, se volete un programma personalizzato o una mia videoschera, a quale indirizzo e mail dovete scrivere? Eh, proprio a quello! Infochiocciolaallenaticonilsorriso.it Dai, scalda bene l'addominale, che poi si scende, che poi si scende sul tappetino e si parte. Quattro, tre, due, uno. Ah, l'ho scaldato bene. Ok, andiamo sul tappetino. Vi ho spiegato tutto, ormai li conoscete, eh, i workout meno di 10 minuti al top. Oggi il nostro focus, il nostro bersaglio è la panzetta. Addominali, primo esercizio, classico crunch centrale. In posizione, piante di piedi a terra, gambe leggermente piegate, intreccio le dita dietro la nuca e parto per un crunch 40 secondi. Tre, due, uno con me. Sali. Fuori l'aria mentre sali. Prendi l'aria quando scendi. Andrò ad allenare con questo workout tutta la parete addominale, eh. Quindi, vai. Mi raccomando, abbina sempre la respirazione. Fuori l'aria quando sali e prendi l'aria quando scendi. Vai. Molto bene, eh. Collo libero, guarda il soffitto. Un sorriso, mentre sei in esecuzione addominale. Pochi secondi e vi do la prima pausa. Vai. Che bellissimi workout. Due, uno, stop. Ok, ragazzi. Pausa. Il secondo esercizio con le gambe belle tese, le braccia lungo i fianchi e leg rice alternato. Scendo, alternando le gambe destra e sinistra, ok? Poi vi dico, cosa dovete fare al termine di questo allenamento per farmi felice, eh. Vai, posizione intanto di leg rice e andiamo al terma. Ok, siamo partiti. Ragazzi, allora, se vi trovate bene che vi state allenando, che vi piacciono questi workout, voi me lo potete far sapere in un modo commentando questo video, mettendo like e salvandolo. Quindi avete tre azioni da fare. Commento, like e salvataggio. Voglio vedere quanti sono i like per capire quanti di voi vi state allenando con me. Vai. Leg rice in cui andiamo a bombardare la parte bassa degli addominali. Ancora. Vai ancora. Bene. Pochi secondi. Tre, due, uno. Ok, pausa. 20 secondi. Appoggio tutto sui gomiti. Cerco di stare a creare quasi un cucchiaio, vedete, con la mia zona addominale. Le gambe 90 gradi e andremo a fare una bicicletta, ok? Quindi andiamo a lavorare tutta la fascia addominale con questi esercizi. Tre, due, uno. E vai, bicicletta. Sempre con il sorriso, eh. Mi alleno. Noi siamo quelli di allenati con il sorriso. L'indirizzo email è proprio infochiocciola allenaticonilsorriso.it Bene, bene. Qua. E al termine gli addominali li sentirete. Pochi minuti per sentire l'addominale. Vai ancora. Allora, belli queste, queste pillole workout. Io inizio realmente ad adorarle. Poi se le salvi tutte, diventa una collana. Ti svegli la mattina e dici, voglio allenare questo. 10 minuti, vai. Quest'altro, 10 minuti, vai. Vai di bicicletta. Bene. Tre, due, uno. Ok, il primo giretto è andato. Ci prepariamo per il secondo giro. Quindi si riparte, pa, con il crunch. Mi raccomando, vi voglio impeccabili sull'esecuzione. Quindi dovete essere, dobbiamo essere veramente in simbiose sul modo di eseguire l'esercizio. Tre, due, uno. Vai. Quindi gomiti aperti, sali e scendi. Guardi il soffitto. La respirazione va abbinata. Come? Può arrivare quando sali e la prendi quando torni. Non andare in velocità. Cerca di mantenere la mia velocità perché è il miglior modo per avere la massima contrazione addominale. Vai. Ancora. Sali e scendi. Ancora. Bene, bene. Come state? Sapete che poi al termine di questi tre esercizi c'è lo special one, esercizio che non ti aspetti, l'ultimo crunch, stop. Ok, quindi rimani fino alla fine perché i risultati, come si dice, il raccolto finale è sempre il migliore. Quindi l'esercizio finale è il migliore. Sulle gambe ci prepariamo per il leg rise. Quindi alterno la discesa delle gambe. 3, 2, 1, vai. Una. Vedete, anche qui sfioro con il tallone il pavimento e ritorno su. Quando torno su parte l'altra, quindi non partite in contemporanea, ma aspettate che torni la gamba che lavora per poi far partire l'altra. E vai. Cerco di spiegarvi tutto alla perfezione per far sì che lavoriate senza problemi, in totale sicurezza. Per me la parola totale sicurezza, la frase totale sicurezza è fondamentale quando ci si allena in maniera virtuale. Anche se io mi sento dentro casa vostra, tutti i giorni. 3, 2, 1, stop. Salgo su, vado sui gomiti e mi preparo per la bicicletta. Eh, 40 secondi di bicicletta. Bella la posizione. Qua, sulle gambe. Ragazzi, aspetto il via del mio timer al polso. 3, 2, 1, bicicletta. Sapete, questo io lo chiamo l'esercizio da prendere il sole. Perché quando sei in estate, tu bagnasciuga, prendi il sole, guardi su. Quindi qui il segreto è tenere il mento alto, guardare il soffitto. Respirare. Respiri profondi. Mantenere sempre la respirazione come se fosse una curva. Che sale, che scende. Non è mai bloccata la respirazione. E le gambe vanno. Vai che poi avete lo special one. Siamo arrivati allo special one. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Vai. Ancora. Eh, l'addominale si sente, comunque. Pochi minuti ma si sentono. 3, 2, 1. Ok, stop ragazzi. Lo special one. Rimango sul tappetino. Vediamo se scommettete un po' qual è. Vediamo se indovinate, no? Scommettete. Ebbene sì. 40 secondi di plank. Forza con me. Plank. Fatto bene. Appoggio bene i gomiti. Destra e sinistra. Vado sulle punte ora e rimango in tensione addominale per 40 secondi. 3, 2, 1. Vai. Guardate la mia posizione. Guardate il mio sedere. È leggermente, ma leggermente più alto della linea delle spalle. Ma questo deve far sì che riesci a chiudere al massimo la tua parete addominale. Questo è un plank. Mi raccomando, il plank, se sentite di sforzare troppo le spalle, le braccia, vuol dire che non state stringendo l'addominale. Quindi, tieni stretto, stretto la zona addominale, la pancia. Springi anche il gluteo e vedrai che ti concentri tutto lì, anche il tuo equilibrio per mantenerti in questa posizione. E poi il plank sarà una passeggiata se lo fai bene. Ragazzi, 3, 2, 1. E stop! Complimenti! Ma veramente complimenti per aver portato al termine anche questo workout. Pochi minuti al top per allenare i nostri addominali. Io ti do appuntamento, come sempre, al prossimo workout. Ma prima di salutarci, ricordati se non l'hai fatto, metti like, commenta e salva questo video.